Benvenuta alla professoressa Marilisa D'Amico, ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, dove è anche prorettrice con delega a legalità, trasparenza e parità dei diritti. Buongiorno. Professoressa, che obiettivi ha Human Hall e che tipo di innovazione porta? Human Hall è uno spazio fisico e virtuale dove si mettono insieme tante competenze, circa una cinquantina di ricercatori e ricercatrici del nostro Ateneo, professori e professoresse, con una ventina di nuovi cosiddetti reclutati, c'è sempre ricercatori e dottorandi, dottorande, su tutti i temi dell'inclusione, però diciamo facendo dell'inclusione dell'innovazione sociale anche un nuovo modo per leggere, per affrontare la realtà. E naturalmente tutto questo è nell'ambito del PNRR che ha fra le linee più importanti quella dell'inclusione, della parità di genere, dedica molto spazio a questo aspetto e noi abbiamo un progetto che si chiama Musa, al cui interno abbiamo sviluppato questo app di innovazione e di inclusione sociale e in questo progetto Musa quattro università, statale, Bicocca, Bocconi e Politecnico lavorano insieme. All'interno di questo progetto Musa, il nostro Spoc 6, è proprio quello che è coordinato da noi insieme anche a Bicocca sull'innovazione e l'inclusione sociale, quindi ricercatori e ricercatrici, quindi competenze a vari livelli multidisciplinare che lavorano insieme. La sfida in Human All è quella di fare tanti progetti con gruppi compositi che magari non avevano mai lavorato prima insieme, come i giuristi con gli informatici, piuttosto che i sociologi con gli scienziati. Ecco, a chi si rivolge in particolare questo progetto? Perché vuole essere un progetto non solo di ricerca? Human All si rivolge a una comunità ampia, partendo intanto da un'università molto ampia come la nostra e si rivolge al mondo non solo diciamo degli studenti e quindi della didattica, ma anche e soprattutto al mondo della ricerca e al mondo fuori, non solo al mondo del lavoro, quindi alle imprese, ma anche alla società civile. Il tema dell'inclusione è un tema che poi ha sempre interessato moltissimo la società civile, la se vogliamo la politica, le istituzioni e ha interessato e interessa molto il nostro Ateneo, non solo per certe materie, ma un po' in tutti i corsi di laurea. Si unisce però adesso la novità di questo momento, cioè che l'inclusione sociale dal punto di vista innovativo è qualche cosa di cui la realtà lavorativa e le aziende sono sempre più bisognose, quindi ormai fare ricerca applicata su questi temi è diventato un punto molto importante. Gli esempi e i progetti, in tanti progetti sono 18. Abbiamo 18 progetti che sul sito trovate tutto, ma vanno appunto dalla parità di genere ai temi della disabilità agli stranieri, cioè le discriminazioni classiche, ad aspetti molto più innovativi come sono il multilinguistico, cioè la discriminazione linguistica come causa di discriminazione, quindi qui ci sono importanti progetti e un ambito che adesso è diventata sempre più importante è quello di studiare la natura degli algoritmi e di vedere quanto gli algoritmi da una parte possano causare discriminazione, le stiano già causando nel mondo e anche in Italia, ma che studiando bene come è fatto un algoritmo si possono creare anche algoritmi inclusivi. Tra i progetti ce n'è uno in particolare che mira appunto a studiare la natura discriminatoria dell'algoritmo e anche però a sviluppare un algoritmo inclusivo. Stiamo studiando il tema della lingua, ma naturalmente poi una volta che avremo questo software che a buon punto potremo applicarlo anche ad altri ambiti. Quindi che contributo può dare il mondo accademico a questioni tanto rilevanti nella nostra vita di tutti i giorni? Il contributo può essere molto importante quando l'Accademia lavora insieme alle istituzioni da una parte, insieme alla società civile, ma anche insieme appunto al mondo del lavoro e le faccio due esempi. Il primo abbiamo già realizzato un ciclo di lezioni che ci ha chiesto il Comune di Milano. Noi abbiamo realizzato nello spazio del Comune, della Casa delle Donne, che è bellissimo, un ciclo di lezioni chieste, perché servono molto alla cittadinanza, sulla cosiddetta discriminazione intersezionale, cioè quella forma nuova di studiare le discriminazioni, per cui quando un soggetto, un gruppo che è già discriminato, i casi più ovvi sono quelli delle donne, a questo gruppo, cioè una donna, si aggiunge anche una disabilità piuttosto che il fatto di essere straniera, piuttosto che un problema anche di età o anche di religione. La discriminazione diventa doppia, tripla e lì bisogna intervenire e ci sono anche vari modi che si stanno studiando insieme. Un altro esempio importante che può essere fatto è una trasmissione che stiamo realizzando con Class Editori, che si chiama V-Leader, cioè le donne leader, realizzate insieme. La cosa bella è che questa trasmissione della televisione di Class viene però poi proiettata in un ambito della finanza, un ambito che è ritenuto un ambito, diciamo, non inaccessibile, ma comunque in cui sembrerebbe esserci anche meno sensibilità. Quindi si vogliono rompere anche un po' di tabù, di quelli che noi chiamiamo gli stereotipi, cioè di parità di genere, bisogna parlarne ovunque e parlarne appunto in questo modo. Quindi a me sembrano due esempi importanti di come poi si potrà andare avanti a fare tantissime altre cose. Lei è stata una pioniera della promozione attiva della parità di genere. Quanto la vede realizzata oggi nelle imprese lombarde? Dal punto di vista dei numeri, delle statistiche, sicuramente la Lombardia è in una posizione eccellente perché il 19%, se non sbaglio dagli ultimi dati, di imprenditrici sono donne, in Italia lo sono molto meno. Però i dati ci dicono poco perché ce ne sono degli altri che sono invece molto in controtendenza. Per esempio anche in Lombardia in pandemia hanno sofferto molto più le donne degli uomini. Voi sapete che il 99% dei lavoratori che si sono licenziati appunto erano donne nel primo anno della pandemia. Perché? Perché anche in Lombardia, esattamente come in Italia, le donne non riescono diciamo a conciliare oltre un certo limite proprio perché noi abbiamo un welfare che non è sufficiente, nonostante qui sia migliore, ma non è comunque sufficiente. Anche in una città come quella di Milano ci sono comunque sperequazioni molto forti a livello anche di gender gap e anche in una città come Milano e in un ambiente professionale come quello dell'avvocatura noi vediamo che ci sono pochissime donne titolari di studio e che le donne guadagnano nettamente meno, addirittura c'erano dei dati qualche anno fa, non so se siano migliorati ma non credo che poi siano migliorati decisamente. Le donne guadagnano il 68% in meno rispetto agli uomini e questo a livello professionale, di una professione dove le nostre laureate, lo dico perché appunto le lauree tutti tutti gli anni sono migliori, più performanti, quindi noi lo vediamo anche nel nostro attenzione, i nostri dati sono chiarissimi. Al momento della laurea le donne si laureano meglio e anche più velocemente, a cinque anni dalla laurea iniziano però le difficoltà e a dieci anni se una donna ha un figlio o due figli anche in Lombardia spesso è costretta a lasciare o a ridimensionare moltissimo il proprio lavoro. Ecco su questo bisogna lavorare di più anche in una regione come la nostra.